forte può significare diverse cose per un ciclista sopportare fatiche maggiori spingere duramente sui pedali per tanti minuti oppure semplicemente avere dei quadricipiti enormi da sollevatori di pesi comunque la vediate diventare forti è un obiettivo di ogni ciclista soprattutto se le prime armi in questo video vedremo tre vie per diventare ciclisti più forti la prima cosa su cui lavorare se vogliamo diventare dei ciclisti più forti è la resistenza ad alta intensità che cosa si intende è il famoso medio si è sempre chiamato così oppure sweet spot come lo chiamano gli inglesi e cioè la capacità di resistere a uno sforzo di lunga durata attorno all'ora e mezza due ore senza decrescere quindi riuscire a mantenere una potenza costante molto alta per un tempo attorno un'ora e mezza appunto se guardiamo i watt lo sforzo sarà in circa attorno al 90 per cento delle ftp se invece guardiamo la frequenza cardiaca sarà attorno all 85 per cento della frequenza cardiaca massima come alleniamo la resistenza ad alta intensità beh si possono fare delle ripetute dai 20 e 40 minuti all'interno di un lungo allenamento mantenendo ovviamente questo livello di intensità oppure possiamo fare veramente un'ora e mezza fatta forte alla massima intensità sostenibile per questa durata di tempo in questo modo andremo anche a vedere quanti watt facciamo oppure quanto tempo impieghiamo per correre un percorso prefissato in modo che la volta successiva cercheremo magari di spingere due watt in più o impiegare 20 secondi in meno sull'ora e mezza così facendo avremo sempre il polso della situazione potremo vedere chiaramente i nostri miglioramenti l'indicazione più importante se vogliamo eseguire questo tipo di lavoro la scelta del percorso che deve essere per lo più pianeggiante o al limite leggermente vallonato la cosa a cui prestare attenzione però è il traffico bisogna cercare di fare uno sforzo di un'ora e mezza senza mai fermarsi quindi cerchiamo aree in cui siamo sicuri di poter percorrere almeno mezz'ora in modo consecutivo senza fermarci poi se ci fermeremo rallenteremo una volta ogni mezz'ora è anche accettabile l'ideale sarebbe andare in un velodromo in un ciclodromo in cui siamo sicuri di non avere ostacoli e il percorso è completamente pieneggiante inoltre in questo modo potremo ottenere traccia dei nostri miglioramenti soltanto misurando il tempo impiegato per percorrere una certa distanza inoltre questo lavoro ci insegnerà anche a gestirci bene su uno sforzo molto lungo in cui bisogna restare concentrati per un'ora e mezza bisognerà evitare ad ogni costo i cambi di ritmo quando troviamo dei leggeri strappettini delle salite o delle ripartenze quando magari siamo dovuti fermare dobbiamo cercare di farlo in modo più lineare possibile senza creare picchi di potenza in questo modo dovremo nemmeno smettere di pedalare nelle giri discese o rallentare quando saremo stanchi dovremo cercare di mantenere una potenza quindi un'intensità il più costante possibile per l'ora e mezza che ci siamo prefissati la seconda via per diventare ciclisti più forti attraverso la forza massima è un parametro molto spesso sottovalutato tanti pensano che serva soltanto per fare salite brevi e ripide con rapporti lunghi oppure per partire come un razzo agli stop ai semafori in realtà la forza massima è molto molto più importante è la capacità di contrarre in modo massimale il maggior numero di fibre muscolari questa è una cosa molto importante ovviamente i velocisti sono avvantaggiati perché hanno un maggior numero di fibre veloci rispetto ai fondisti e scalatori e passisti che generalmente sono meno forti da questo punto di vista ma questo tipo di lavoro serve anche a loro lo sviluppo della forza massima infatti aiuta a reclutare un maggior numero di fibre muscolari impiegando più fibre muscolari diventeremo più forti senza però diventare più grossi quindi più pesanti semplicemente utilizzeremo meglio i muscoli che già abbiamo ed è una cosa di cui potete rendervi conto anche voi basta provare a fare dei piegamenti sulle braccia se non siamo allenati all'inizio ne faremo 8 10 non lo so però se ci alleneremo con costanze in breve tempo nel giro di poche settimane riusciremo a migliorare moltissimo riusciremo a farne anche 50 questo fino ad arrivare a un plateau da questo momento in avanti per riuscire a migliorare ulteriormente bisognerà per forza aumentare un pochino la massa muscolare soprattutto se pesiamo molte quindi lo sforzo è notevole però fino a quel plateau quello che abbiamo migliorato non è la sezione muscolare bensì la capacità di reclutare più fibre muscolari e questo ci porta ai vantaggi enormi anche in sforzi che pensiamo che siano puramente di resistenza come una salita lunga magari di un'ora oppure una prova cronometro è stato dimostrato che la forza massima ha un ruolo importantissimo anche negli sport di resistenza la buona notizia è che è un parametro facilmente allenabile almeno all'inizio se non siamo allenati a questo tipo di sforzo ed è anche facilmente allenabile in bicicletta il modo più semplice è fare le famose partenze da fermo dobbiamo rallentare fino a quasi a fermarci rimanere una situazione di surplus con un rapporto molto duro anche il più duro che abbiamo a disposizione e a questo punto spingere più forte che possiamo sui pedali cercando di raggiungere una cadenza attorno alle 50 60 rpm a quel punto l'esercizio sarà finito quello che conta sono i primi secondi le prime 10 15 pedalate non di più non è necessario lanciarsi a 60 all'ora l'importante sarà riuscire a partire da fermi e guadagnare velocità nei primi metri potete decidere se fare degli allenamenti specifici per questa qualità magari facendo 5 6 8 anche 10 ripetute con il giusto recupero tra l'una e l'altra oppure potrebbe essere molto intelligente inserire tutti i giorni in ogni allenamento una o due partenze da fermo magari sfruttando già i momenti in cui dobbiamo fermarci magari uno stop o un semaforo ripartiamo a tutta ovviamente quando saremo caldi in questo modo terremo sempre ben allenata questa capacità che è davvero importante molto sottovalutata nel ciclismo ho lasciato per ultima forse la più importante la forza mentale per certi tipi di sforzo la testa può davvero cambiare le carte in tavola pensate a quei corridori che emergono dopo sei ore di gara magari nel vento nella pioggia rimangono veramente più forti mentalmente quelli che riescono a resistere più degli altri oppure pensiamo agli ultra cyclists che percorrono tantissime ore tantissimi chilometri addirittura giorni consecutivi senza riposare qui la testa gioca un ruolo davvero importantissimo in questi casi non conta tanto quanto ci siamo allenati quante ripetute abbiamo fatto la settimana scorsa quanto ci siamo alimentati bene in questi casi la forza di volontà la resistenza mentale può davvero fare la differenza e il dolore gioca un ruolo fondamentale in tutto ciò riuscire ad estraneare il proprio corpo o meglio la propria mente da un corpo sofferente ci permetterà di resistere molto più a lungo ci permetterà di fare sforzi che non crediamo nemmeno possibile certamente tutti noi abbiamo sperimentato quanto la mente possa limitarci e delle volte se noi ci concentriamo sul nostro dolore sul mal di gambe vediamo tutto negativo la nostra prestazione ne risentirà assolutamente andremo più piano di quello che avremmo potuto fare viceversa ci è capitato magari in salita di avere davanti un ciclista che andava un pochino più piano di noi lo vedevamo lì lontano a quel punto abbiamo provato ad aumentare il nostro ritmo per prenderlo e siamo andati più forti di quello che pensavamo di poter fare e una volta superata abbiamo continuato a spingere per la vergogna di farci riprendere e superare nuovamente questa è tutta una questione mentale e riuscire ad allenare questa qualità anche senza il ciclista che ci fa da punto di riferimento può davvero cambiare il nostro motore farci andare veramente più forte per fare ciò dobbiamo porci degli obiettivi con scadenze temporali differenziate dobbiamo avere magari l'obiettivo della giornata riuscire a fare 200 chilometri però all'interno di questa giornata dobbiamo mettere degli obiettivi più piccoli più facilmente raggiungibili magari dobbiamo dire ok dobbiamo scalare questa salita ci penseremo poi dopo cosa fare ok dobbiamo arrivare fino a quel tornante ok dobbiamo prendere quel ciclista di davanti continuando a porci degli obiettivi tenendo la mente focalizzata su un obiettivo raggiungibile abbastanza facilmente raggiungibile che siamo sicuri di poter fare cercheremo di estraneare le nostre sensazioni negative pensare solo in modo positivo in modo da diventare ancora più efficienti e spingere al massimo il nostro corpo in conclusione per diventare ciclisti più forti dovremo migliorare il nostro motore aerobico dovremo aumentare la nostra forza massima sia che siamo velocisti sia che siamo dei scalatori di 50 kg ma soprattutto dovremo convincerci di essere forte con la nostra testa questo è forse lo strumento più potente più sottovalutato che abbiamo a nostra disposizione ovviamente l'allenamento rimane imprescindibile in passato abbiamo fatto dei video interessanti cinque modi per allenare la forza o migliorare la potenza in poco tempo che vi consiglio di andare a vedere spero che questo video vi sia piaciuto mettete un bel like commentate condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e rivederci la prossima puntata